cordiali lettori di investire.biz benvenuti a questo nuovo approfondimento dedicato al mondo dei certificati quest'oggi andiamo a parlare di una tipologia particolare di investment certificate ossia di certificati di investimento stiamo parlando dei recovery top bonus certificate su azioni su single stock quindi su singole azioni non basket emesse da Societe Generale è uno strumento molto interessante quello dei recovery top bonus infatti sono strumenti che come andremo a vedere hanno una struttura molto semplice e soprattutto fino dal loro prezzo di emissione che avviene sotto la pari sotto il prezzo di rimborso pari a 100 euro puntano di fatto come dice il nome stesso a permettere all'investitore che magari ha accumulato delle minusvalenze su altri investimenti di andare a recuperare le perdite quello che sono interessante a vedere iniziamo proprio dai payoff quello che è la struttura di massima del certificato infatti sono solamente due gli scenari che si hanno ossia si acquista il certificato sotto la pari se alla data di rilevazione finale il valore del sottostante è superiore al valore della barriera a quel punto cosa succede il rimborso è di 100 euro per ogni certificato posseduto il guadagno per l'investitore è rappresentato così come può avvenire con un bot dalla differenza fra il prezzo di acquisto e i 100 euro del prezzo di rimborso finale quello che abbiamo visto fino ad ora è lo scenario positivo vi può essere invece uno scenario negativo qualora la data di scadenza la valore finale della sottostante sia sotto il livello della barriera o sia uguale al valore della barriera come potete vedere anche qui a quel punto sostanzialmente l'investitore otterrebbe un rimborso che è lineare a quello che è stato l'andamento del sottostante dalla data di emissione quella di cui parliamo quest'oggi è un'emissione non nuovissima ma nemmeno troppo vecchia infatti è firmata ed è stata portata sul mercato il 25 di maggio 2021 così come anche data di negozia di inizio delle negoziazioni negoziazioni che avvengono sul mercato sedex di borsa italiana questo vi permette di avere anche la possibilità di sfruttare la liquidità presente sul mercato ed è formata da 23 prodotti 12 differenti sottostanti come vedete sono e come già accennavo singole azioni alcune nemmeno italiane quindi questo vi permette anche di andare a diversificare in un'ottica geografica il riferimento specifico è da Air France un tema molto interessante in questa estate in cui si sta riappendo la possibilità di viaggiare non solo in Europa ma anche su scala internazionale ma poi il focus specifico è legato ad alcune delle big delle big di piazza affari penso a generali a banco bpm enel eni ferrari intesa san paolo e leonardo moncler stellantis telecom italia tenaris e infine unicredit cosa risalta da questa emissione da questo numero di sottostanti beh che vi è la possibilità di cavalcare sia il tema bancario con la possibilità di prendere posizione su alcuni dei più importanti player della scena italiana sia di sfruttare anche il rialzo delle materie prime con Eni e con Tenaris quanto comunque anche la transizione energetica che sappiamo essere molto importante nelle linee guida dell'Europa e in primis con quella Enel che fa da capofila nel settore in Italia quello che è interessante vedere al di là dei rendimenti a doppia cifra che si avevano già in fase di emissione vediamo qui una 10,93 per cento di rendimento potenziale lordo all'emissione grazie a un valore di emissione sul mercato di 10,19 e 16 euro quello che vediamo è la possibilità di andare a prendere posizione con diverse tipologie di scadenze alcune molto brevi perché siamo a circa due mesi dalla data di valutazione che interesserà per esempio questo certificato che ha come sottostante Air France e alcune di più ampio respiro all'incirca un anno se ad esempio andiamo a vedere questo strumento su Enel che ha una data di rilevazione finale posta il 16 di giugno 2022 mentre il pagamento avverrà il 23 di giugno 2022 all'interno di questi strumenti che hanno delle barriere a scadenza questo è un elemento molto importante da sottolineare da tenere in considerazione perché vuol dire che qualora anche i sottostanti scivolassero sotto il livello di barriera nel corso della vita del certificato non succederebbe nulla per quanto riguarda il pay off finale dell'investitore infatti la barriera viene misurata solo in occasione della misura della rilevazione della data di valutazione finale che vedete proprio indicata qui 17 settembre in questo primo caso 17 dicembre in quest'altro 16 di settembre per quanto riguarda lo strumento che ha come sottostante assicurazioni generali. Fra le diverse tipologie di prodotto che sono stati emessi lo scorso 25 di maggio la mia attenzione in particolare è caduto su un tema che in termini di andamento storico del titolo a piazza affari ma anche di opportunità e di investimento seguenti e inerenti allo sviluppo della Next Generation EU come piano e come linea guida per l'Italia e per tutto il vecchio continente è questo strumento su Telecom Italia che ha un codice ISIN di E000SF0NUJ4 e il perché è presto detto innanzitutto fin dalla sua emissione un rendimento lordo rispetto al valore di emissione molto interessante ma poi quello che è il prezzo di strike che è avvenuto e il prezzo di barriera che è posto a 0,34 euro per azione. Anche altri strumenti come quello su Intesa San Paolo avevano attirato la mia attenzione, è un tema molto caldo legato alle M&A, quello dei bancari, vi è però un'incognita legata anche allo stacco di dividendi anche corposo che potrebbe avvenire qualora il prossimo 23 di luglio la banca centrale europea dovesse ufficializzare il venir meno del veto sulla distribuzione dei dividendi così come invece avvenuto dal inizio della pandemia in avanti e quindi questo potrebbe andare incidere magari negativamente pur avendo per esempio questo strumento una barriera a scadenza molto profonda e molto interessante anche in termini di durata dello stesso però appunto dicevo la mia attenzione specifica quest'oggi è stata rivolta ed è stata attirata da questo eh da questo certificato che ha come sottostante Telecom Italia anche qui la data di valutazione finale sarà il 16 di giugno 2022 mentre la data del pagamento finale il 23 giugno 2022. Andiamo però dopo aver selezionato il codice ISIN ad andare nella pagina specifica di questo recovery top bonus certificates su Telecom Italia e lo trovate all'interno della pagina del sito internet di SG ricordiamo l'indirizzo è prodotti.scitegeneral.it andando a inserire il codice ISIN tra il motore di ricerca del sito ecco che riuscirete ad andare direttamente in questa pagina vediamo come attualmente il prezzo denaro lettera sia inferiore a quello che è stato il prezzo di emissione quindi questo vuol dire che vi è un rendimento lordo potenziale ancora più importante che è pari ai valori attuali ai valori della lettera al 17,71 per cento lordo andando a renderlo su base mensile si sta parlando dell'1,6 per cento su base mensile ma quello che è interessante vedere andando anche a prendere il grafico di questo strumento o meglio del sottostante ricordiamo Telecom Italia qui trovate l'ISIN che può essere facilmente copiato ecco ma andiamo a prendere il grafico in questo caso di Telecom Italia quella che trovate indicata in orizzontale è il valore della barriera e lo ricordiamo una volta ancora la barriera viene misurata solo a scadenza ma soprattutto vedete come sia un valore intermedio rispetto a quello che è stato l'ampio trading range che ha caratterizzato le quotazioni dell'ex monopolista delle TLC italiane all'interno della quale ha scambiato dal scoppio della pandemia in avanti ma questo livello che adesso andrò anche a tracciare di rettangolo di lateralità delle quotazioni compreso fra un minimo arrotondando in area 0,28 e un massimo anche qui arrotondando in area 0,42 è stato rotto al rialzo con l'inizio del 2021 quello che possiamo vedere da un punto di vista tecnico assomiglia molto a una pull back a un test del cambio di stato anche profondo ma questo a noi che abbiamo il certificato conta e interessa relativamente poco infatti è solo questa soglia di 0,34 euro operazione che ci andrà a interessare quello che è interessante notare che qualora si dovesse mantenere una sostanziale lateralità così come è avvenuto nel recente passato noi potremmo andare a giovare qualora alla scadenza del 16 di giugno del 2022 le quotazioni fossero sopra questo livello ecco potremmo andare a incassare un rendimento assolutamente interessante dico questo anche perché rispetto al passato le società come Telecom Italia hanno una remunerazione meno appealing e meno interessante rispetto a quello che potrebbe essere invece l'intesa San Paolo di cui si parlava prima e quindi fra quello che è l'andamento di Brorsa quello che è il livello anche della barriera che possa sotto un livello psicologico e anche di matrice grafica molto importante come quei 0,35 euro operazioni che hanno fatto base a più riprese fra la fine del 2020 e la prima parte del 2021 ecco che insomma la costruzione il payoff di questo strumento appare davvero significativo e interessante ve lo ricordo quindi ancora una volta la nostra attenzione quest'oggi è andata sul recovery top bonus certificate su Telecom Italia per avere un approfondimento su quello che è comunque la gamma completa vi ricordo che potete andare sempre sul sito di seg prodotti.societygeneral.it quando selezionate i tipi di prodotti qua recovery top bonus avete la possibilità di vedere tutte quelle che sono le alternative le possibili soluzioni di investimento che hanno come oggetto questa struttura di certificati con anche la possibilità di avere immediatamente un focus su quello che è il rendimento massimo che si può ottenere a scadenza rispetto ai prezzi di mercato del singolo certificato vedete qui addirittura si arriva quasi a un 30% di rendimento ma attenzione perché anche se non è misurato in via continua ma è misurata solo a scadenza in questo caso per esempio Air France si troverebbe quasi due punti sotto due punti percentuali sotto il livello della barriera un livello ampiamente recuperabile peraltro comunque tutte le caratteristiche su prodotti.societygeneral.it in descrizione nel video invece vi lascio il link della sottostante di cui abbiamo parlato grazie mille per l'attenzione e buoni investimenti a tutti voi